Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando andare avanti a un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che è a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Eccoci di nuovo con il nostro format per vederci più chiaro. Questa settimana torna il mondo assicurativo e quindi siamo tornati anche perché sinceramente ci siamo trovati bene all'interno dell'agenzia di Sara Assicurazioni di Piazza Zucchi ad Arezzo. Allora Fabrizio, questa settimana di che cosa parliamo? Un argomento forse un pochino più popolare rispetto a quelli che abbiamo trattato. Direi proprio di sì. Oggi parliamo di RC Auto, la polizza più popolare, la polizza che è prevista obbligatoriamente dal nostro ordinamento giuridico e è quella che rappresenta maggiormente nel mondo assicurativo la polizza più diffusa, più popolare. Cioè quella che sostanzialmente non puoi scegliere di non fare ovviamente i sentimenti in auto insomma. Di certo a mio modo di vedere però la polizza assicurativa RC Auto proprio per la sua obbligatorietà a mio modo di vedere rappresenta ancora oggi una barriera psicologica, proprio un limite allo sviluppo della protezione in altri settori importanti per la sicurezza della vita delle persone, proprio rappresenta un freno perché ha rappresentato il mercato assicurativo negli anni ma essendo obbligatoria i clienti l'hanno sempre percepita come una tassa, non tanto come un contratto che ha una finalità di tutela ma come un'imposizione, erroneamente purtroppo. E qui sono mancata a mio modo di vedere le istituzioni, gli operatori, la capacità degli operatori, imprese intermediarie di cercare di rimuovere questa barriera psicologica attraverso una cultura assicurativa, un'educazione finanziaria ed assicurativa invece che facesse percepire lo strumento assicurativo al di fuori anche dal mondo dell'auto come soluzione adeguata per garantire tranquillità e sicurezza. La RC Auto perché l'abbiamo sempre vissuta come qualcosa di obbligatorio ma in realtà la polizza RC Auto è obbligatoria perché ha una finalità molto importante ad alto impatto socio-economico, perché cosa consiste la RC Auto? La RC Auto è la chronic mode di responsabilità civile autoveicoli terrestri e è quel contratto che garantisce il conducente o, qualora è diverso, il proprietario del veicolo assicurato quindi registrato al pubblico registro automobilistico Il famoso PRA? Il famoso PRA e noi siamo l'assicurazione ufficiale dell'Automobile Club d'Italia che è molto legata anche al mondo dell'auto, della burocrazia dell'auto e quindi anche al PRA ed è un contratto che ha una finalità molto importante, ripeto, perché tutela il proprietario e o il conducente del mezzo assicurato per i danni che durante la circolazione del mezzo può provocare a terze persone. Quindi capiamo l'importanza. Oggi gli incidenti sono all'ordine del giorno, essere ben assicurati è fondamentale per tenere indenne il proprio patrimonio, per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli e oggi le compagnie sono in grado attraverso questa polizza di accompagnarci, di tutelarci però purtroppo essendo obbligatoria ed essendo vissuta dal mercato, dai cittadini come un qualcosa di obbligatoria non viene percepita in modo corretto e infatti Gretta mi metto nelle tue vesti e ti faccio una domanda tu quando entri in contatto con il tuo assicuratore o ti rivolgi a più assicuratori per cercare l'offerta migliore e più adeguata Cosa cerchi? Prima di tutto La qualità Bene E poi un po' anche il prezzo Ecco, bravissima, mi fa molto piacere ovviamente tu sei una giornalista molto qualificata, molto in gamba oltre che icona del giornalismo sul nostro territorio di Arezzo L'ho pagato bene, l'hai pagato bene E ovviamente anche la tua cultura ti porta anche a fare delle considerazioni molto più profonde però ti posso garantire che oggi, anche per responsabilità, ripeto, delle istituzioni, di noi operatori, delle stesse compagnie che fanno azioni di marketing, fanno continuamente proclami orientati solo e esclusivamente al prezzo che è un fattore determinante ovviamente ma tende a lasciare alle spalle aspetti ancora più importanti che sono le garanzie, la qualità delle garanzie Ma ci sono casistiche nella polizza, diciamo, che mediamente viene stipulata che non vengono considerate che invece magari dovrebbero essere appunto nella ricerca di quella qualità senza, ahimè, tralasciare anche il prezzo però magari la casistica particolare io non la contemplo poi mi capita e nonostante io abbia comunque ottemperato al mio obbligo di legge sono, insomma, in brutte acque ecco, ci sono delle casistiche possiamo fare un elenco di questo tipo? Allora, intanto, bene io direi al cliente un consiglio importante sì che si focalizzi sul prezzo ma prima di tutto premettendo che tra l'altro lo stesso regolatore l'Ivas, l'organo di vigilanza del settore a cui tutti i cittadini per qualsiasi dubbio o per eventualmente avanzare anche dei reclami possono appunto rivolgersi il sito è www.ivas.it poi ci sono proprio le sezioni dedicate per i reclami del consumatore persino ha istituito da qualche anno un preventivatore che è in grado di fornire ripeto, di fornire le tariffe di tutte le compagnie operanti autorizzate ad operare sul mercato italiano premesso che la sua efficacia poi è molto relativa anche perché oggi poi la tariffa sì, la tariffa ha una sua funzionalità ha un suo significato ma spesso poi basta rivolgersi all'agenzia o all'intermediario che la tariffa può essere modulata con sconti, via dicendo a seconda di tanti fattori che sono considerati invece è importante, cari clienti proprio perché è della cronaca anche di questi giorni con il fenomeno di un aumento della concorrenza sul mercato assicurativo con l'apertura a più canali distributivi stiamo assistendo, immaginiamo alle polizze via internet le polizze con altri operatori, stiamo assistendo al proliferare di truffe che stanno impegnando le autorità giudiziarie, l'IVAS in azioni di contrasto molto pesanti però è ovvio che non possiamo pensare che solo le autorità possono frenare questo fenomeno ci vuole l'accortezza l'accortezza seguendo regole ben precise affidandosi a serri professionisti e seguendo regole ben precise che sono anche facilmente reperibili nello stesso sito dell'IVAS con delle guide proprio dirette al consumatore che in maniera molto semplificata molto semplice aiutano a capire quelli che sono i principali accorgimenti ecco, da tenere presente da tenere presente anche durante la relazione con il proprio intermediario perché? perché la polizza, noi siamo focalizzati sul risparmio ma purtroppo la polizza, i contratti assicurativi prevedono delle limitazioni, le cosiddette esclusioni rivalse allora è importante quando in fase di preventivazione in fase di analisi dei propri bisogni chiedere, approfondire quelle che sono le esclusioni e le rivalse cioè quei casi in cui le compagnie non intervengono non fanno azione di rivalsa cosa vuol dire la rivalsa? facciamo un esempio facciamo un esempio quali sono i principali casi di azioni di rivalsa da parte della compagnia? perché si parla di azioni di rivalsa? perché ovviamente il terzo danneggiato ovviamente dalla legge deve essere tutelato quindi le compagnie sono chiamate a rispondere però se poi il contratto che ha stipulato il cliente colui che danneggia il terzo prevede una rivalsa per un caso specifico la compagnia si rivale sul responsabile quindi se il responsabile ha proprietà ha risparmi, ha investimenti rischia di vedersi depauperato questo patrimonio perché ne deve rispondere quali sono i casi di rivalsa ad esempio principali che si riscontrano maggiormente? la guida in stato di ebrezza ma oggi lo stato di ebrezza non significa essere ubriachi non parliamo a sicurezza cerchiamo di trasmettere un messaggio concreto ai clienti di essere ubriachi oggi i limiti alcolemici che fanno scattare l'azione di rivalsa in base a quello che è previsto dal codice delle assicurazioni sono molto limitati e variano e variano anche a seconda dei soggetti maschio, femmina, la corporatura le varie situazioni per cui una persona che esce magari da un matrimonio dove è abitudine anche consumare fare il brindisino potrebbe già trovarsi fuori dai limiti quindi trovarsi in caso di un incidente involontario che sarebbe magari successo anche in altre condizioni a trovarsi a dover far fronte a un'azione di rivalsa altro caso di azione di rivalsa è quando c'è una guida non conforme con patente scaduta con la macchina non revisionata ma ti posso garantire Greta che sono casi a dispetto di quanto possa sembrare che avvengono quindi rischiamo totalmente io troppo spesso sento anche genitori che quando si propone ma la guida mio figlio ma mio figlio è bravissimo non beve io dico ma vale la pena rischiare un'azione di rivalsa magari per poche decine di euro che influiscono sul premio di differenza vogliamo anziché focalizzarsi sul premio prima di tutto valorizzare l'aspetto delle garanzie della qualità delle garanzie? certo, ho capito guida non conforme patente qui abbiamo di fianco l'Automobile Club d'Italia che tra i servizi che offre c'è anche quello del rinnovo patente capitano molto spesso casi in cui la persona si è dimenticata di rinnovare nei tempi quel caso lì in caso di incidente potrebbe comportare la reazione di rivalsa e oggi chi è in grado magari di far fronte a centinaia di migliaia di euro di fronte a un sinistro di una certa portata d'entità e per ottenere quel massimale quindi il massimo risarcimento che a fronte di un sinistro la compagnia interviene appunto per far fronte magari con pochi che rappresentano magari un ostacolo insormontabile se accade per l'assicurato in realtà assicurandosi con poche decine di euro si dorme e sono i tranquilli più protezione alla fine più risparmi e soprattutto significa io lo dico sempre più salute più equilibrio più psicofisico più sicurezza e più serenità ma perché in questo mondo di eterna insicurezza infelicità a volte basterebbe poco per trovarla ricercarla evitare di rischiare quotidianamente l'auto è il mezzo col quale ci muoviamo maggiormente oggi le condizioni stradali il traffico cittadino oggi non aiutano certo eh no soprattutto le condizioni stradali guarda io lo vedo nel nostro mestiere che insomma allora quando andiamo dal nostro assicuratore misuriamo la polizza anche per il suo costo ma soprattutto misuriamola per la qualità delle garanzie per la capacità consulenziale del proprio assicuratore certo misuriamola cercando di farsi pianificare il miglior prodotto sulla base delle esigenze che vengono dichiarate e manifestate del cliente e a questo proposito vorrei segnalare anche un'altra cosa importante che quando parliamo l'assicurazione RC auto è obbligatorio per i mezzi circolanti ma attenzione il termine circolazione non lo dobbiamo ricondurre al significato più comune inteso come dire quando il mezzo circola è in movimento ma bisogna associarlo alla definizione che dà il codice della strada quindi si intende circolante quindi c'è l'obbligo di assicurazione quando il mezzo si trova in un'area anche ad accesso pubblico parcheggiato fermo e poi vorrei dire un'altra cosa in merito all'assicurazione auto se l'ordinamento giuridico ci impone ci impone l'obbligo di assicurarci per la responsabilità civile per eventuali danni provocati durante la circolazione a terzi e la polizza auto può essere completata anche con altre garanzie cosiddette accessorie che non sono di natura obbligatoria ma sono altrettanto importanti e io dico sempre che vanno valutate col proprio assicuratore in questi ultimi mesi abbiamo assistito a un fenomeno che ha creato molti danni e disagi anche al nostro territorio di Arezzo la grandine la grandine rientra può essere coperta con le cosiddette garanzie con una specifica garanzia che rientra nelle cosiddette ARD auto rischi diversi le CVT corpo e veicoli terrestri che sono queste garanzie le principali sono l'incendio e furto gli atti vandalici la tutela legale l'infortunio del conducente la famosa casco la collisione e via dicendo che sono garanzie che possono garantire sicurezza a difesa a tutela del patrimonio che può ripresentare l'auto a tutela della persona che può guidare un'auto perché sappiamo che il conducente e se coincide con l'intestatario al PRA è l'assicurato nella polizza è l'assicurato però è la figura che non è considerato proprio perché lui che ha il controllo del mezzo e lui il responsabile non è annoverato tra i terzi per cui non è risarcito in caso se si fa male con responsabilità in un incidente stradale ecco perché può essere utile stendere la propria polizza anche con una copertura del conducente così come qual è uno dei ricorsi per l'acquisto dell'auto oggi? è il prestito è il leasing cioè io acquisto con un patto acquisto un'auto con la formula del prestito quindi acquisto l'auto però mi impegno a pagarla io ritengo che potrebbe valere la pena che il cliente valuti l'opportunità di assicurarsi per l'incendio e furto un eventuale casco perché se nel frattempo che sta pagando il prestito subisse un danno il malcapitato si trova a non aver magari più la macchina averla accidentata in maniera grave e a dover comunque sostenere il costo economico di un prestito quindi magari a non aver più l'utilizzo della macchina ma a dover continuare a pagare a pagare ho capito ho capito insomma mi sembra di capire che questo ambito sia davvero è vero sì abbiamo detto quello più popolare ma insomma è bello bello ampio gli vogliamo dedicare anche la prossima puntata sì direi oggi abbiamo fatto un'introduzione però dopo preferirei già la prossima puntata andiamo a analizzare le varie figure che intervengono in un contratto RT Auto gli obblighi come verificare direi anche l'attendibilità delle compagnie se si tratta di compagnie che sono operative o se sono siti truffa o se sono intermediari regolarmente iscritti su questo ambito ci sono stati anche alcuni interventi legislativi come la legge Bersani ad esempio che insomma ha tutta una serie di specifiche che riguardano proprio l'RC Auto in quel caso forse all'interno di una famiglia se non sbaglio di un nucleo familiare anche questo meriterebbe magari un approfondimento nella prossima puntata ora io troppo spesso riscontro nell'attività dei nostri politici più delle un modo di legiferare più a propaganda politica che di reale necessitare con cognizioni tecniche diciamo che il Bersani nasce con uno spirito molto nobile però poi ovviamente anche sicuramente per far fronte a delle esigenze all'epoca elettorali e partiti che ovviamente ha dimostrato anche delle lacune sicuramente dei limiti e delle lacune molto forti non c'è dubbio che però in generale il mercato ne ha goduto il mercato dei consumatori ovviamente però il Bersani per certi aspetti non risponde a quella tecnicità che la polizza sul quale la polizza assicurativa deve formarsi poggiarsi perché ricordiamo che le compagnie per garantire sicurezza quindi risposte concrete ai suoi clienti che provocano i danni devono anche avere un equilibrio tecnico economico vorrei vorrei semplicemente a questo proposito aprire una parentesi invitando i clienti a volte oltre che a verificare i prezzi quando vanno dal proprio assicuratore che gli rilascia il set informativo che invito sempre per ogni prodotto che si stipula a prenderne visione oltre che a riceverlo sempre leggerlo perché lì è approfondito i contenuti previsti dalla propria polizza in una delle prime pagine viene indicato il cosiddetto indice di solvibilità delle compagnie è una novità introdotta da non molto tempo proprio dall'organo di controllo che però non deve rimanere poi di conoscenza degli adetti ai lavori quindi io invito tutti i cittadini perché l'indice di solvibilità sta a significare la capacità di far fronte ai propri impegni della propria compagnia e siccome è la nostra compagnia che ci assiste e ci paga per i danni che provochiamo oltre a valutare il prezzo valutiamo prima di tutto le garanzie e con chi mi sto assicurando anche in termini di compagnie il decreto Bersani quindi è vero che è stato ben gradito dal pubblico però senza delle valutazioni tecniche allora ti giro una domanda faccio io rientro nelle tue vesti Greta secondo te una qualsiasi persona che si assicura per la prima volta che vive da solo quindi è al di fuori di un nucleo familiare dove esiste già un'autovettura con una propria classe di merito un pregresso diciamo è giusto rispetto al diciottenne quindi neopatentato che rischia che semplicemente perché vive ancora con i propri genitori acquista un veicolo a nome suo gode della classe di merito del padre mentre quell'altra persona indipendentemente da l'età perché è fuori dal nucleo non può non può usufruire perché la prima auto che acquista non può usufruire di un'altra auto di una classe di merito già presente su un'altra auto di sua proprietà o del suo nucleo familiare di un componente del suo nucleo familiare deve ripartire dalla quattordicesima io non so se ti sembra giusta una cosa no no assolutamente ecco ho letto con questi occhi ecco perché io faccio le domande all'esperto vedete perché almeno mi dà le risposte che mi deve dare accogliamo il decreto Bersani però sicuramente andava e andrebbe un po' rivisto revisionato su della base di fondamenta tecnicamente più sostenibili anche perché il decreto Bersani alla fine poi le compagnie devono trovare un equilibrio per adeguarsi a questa normativa e applicare questa normativa alla fine si sono trovate a dover fare degli aumenti è chiaro o ritoccare negli altri profili anche perché c'è una novità sostanziale questo ci tengo a dirlo già nella prima puntata che parliamo di RC Auto noi a volte ci lamentiamo che diciamo ma io perché in Italia la formula prevalente di tariffa che regola le RC Auto è quella bonus malus cioè non faccio incidenti cala la classe faccio un incidente aumento di classe di corretto di premio come mai cala la classe e mi aumenta il premio? certamente perché la tariffa il calo di classe c'è ma l'aumento è un aumento di tariffa che varia costantemente anche se negli ultimi anni ad esempio abbiamo assistito per quanto riguarda la garanzia RC Auto anche a dei periodi di diminuzione oppure di stabilità ma perché? perché in Italia a differenza di un paese ad esempio come la Gran Bretagna il legislatore ha previsto ha normato che la polizza auto si basa sul principio di mutualità quindi cosa significa? significa che tutti partecipiamo partecipiamo con gli aumenti che periodicamente ci possono essere partecipiamo alle perdite che causano quelli che hanno fatto dei sinistri siccome non tutti fanno i sinistri per truffa se si facesse pesare solo e esclusivamente sulle spalle di chi ha cagionato veramente in caso di un sinistro dove già gli aumenti sono sostanziali diventerebbero diventerebbero insopportabili e quindi noi con un discorso in un'ottica estremamente sociale socialmente sostenibile il legislatore ha preferito adottare il principio di mutualità fatto sta che ha imposto in Italia è uno dei pochi paesi è vero che aumentano ma c'è l'obbligo a contrarre quindi la compagnia che vorrebbe disdire che volesse disdire un cattivo tra virgolette cliente noi non abbiamo la bad company come avviene in Inghilterra è costretta su richiesta del cliente e a rischio pesantissime sanzioni e persino la licenza ad operare è costretta a riassumerlo quindi non può scegliere i clienti proprio perché il principio mutualistico insieme all'obbligo a contrarre impone ovviamente questo tipo di normativa impone ovviamente a volte per mantenere quell'equilibrio tecnico che le compagnie rivedono a rialza anche le tariffe anche per quei profili non sinistrati cosiddetti migliori però valutiamola anche da un punto di vista sociale e di efficacia e considerando anche in prospettiva che tutti noi può capitare un incidente perché in Inghilterra per fare un esempio che oggi dovrà affrontare anche dal punto di vista assicurativo il fenomeno Brexit anche se tu però insomma è importante è importante in Inghilterra un cliente ha la compagnia di fatto sinistra non gli piace di più vai via e lo sai chi trovi che sia Bad Company un'altra compagnia che ti accetta a condizioni e a costi salatissimi allora noi a fronte di spalmare ovviamente chi fa un incidente si troverà una variazione di premio significativa e sostanziale però in ogni caso più contenuta proprio perché poi l'andamento dei sinistri viene spalmato in maniera leggera ma su tutta la platea dei profili assicurati quindi valutiamo anche questo aspetto sociale magari può piacere meno perché non siamo consapevoli di questo funzionamento si si vista in lungo termine come si suol dire no? poi sicuramente le compagnie insieme al legislatore devono fare un salto di qualità sicuramente il Borgos Malus ormai è adattato con l'evoluzione che stiamo vivendo sicuramente andrà rivisto ma sono certo che ci saranno nuovi a breve entreranno nel mercato nuove formule tra l'altro la mia compagnia è stata tra quelle e è tuttora impegnata anche sta creando prodotti che si basano la tariffa anche sugli aspetti comportamentali del conducente quindi ne vedremo c'è un'ingenerizzazione assicurativa in atto che ci regalerà cambiamenti epocali nel prossimo futuro allora io direi se tu sei d'accordo insomma e se ovviamente gli argomenti lo consentono di dedicare magari anche solo parte insomma della prossima puntata perché questo è un argomento abbiamo detto molto molto insomma a suo modo anche complesso perché ci sono tanti aspetti accetto la sfida Greta purché l'RC auto non rimanga un fenomeno a sé stante è vissuto come tassa ma ci permetta di contribuire a diffondere l'educazione assicurativa partendo dall'auto che non è solo prezzo ma è soprattutto garanzie qualità delle garanzie per sensibilizzare ancora di più gli utenti i consumatori di quanto sia importante lo strumento assicurativo per garantirsi protezione e quindi di affidarsi a professionisti seri e preparati bene finisce qui la puntata dedicata la prima insomma dedicata all'RC auto dall'agenzia di Sara assicurazioni Fabrizio Ghironi siamo in piazza Zucchi dove peraltro il martedì c'è anche un bellissimo mercato se volete venire a vedere con prodotti di qualità perché noi siamo per la qualità diciamola anche qui che non fa male per vederci più chiaro torno alla prossima settimana ovviamente si parla di occhiali alla prossima arrivederci con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ma tu lo sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 anni non lo sapevo e tu lo sapevi che Sara riconosce un indennezzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozza certo lo sapevo non lo sapeva solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative agenzia Sara Arezzo Arno l'agenzia che è a cuore la tua sicurezza ad Arezzo in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di città di Castello Sansepolcro Castiglion Fiorentino e Cesa se gli altri fanno i saldi noi facciamo gli sconti Ottica Franchini in via Marco Perennio via Garibaldi via Vittorio Veneto Gori e Zucchi 7